Un passante ha salvato la vita di una neonata di soli 5 mesi che era stata lasciata in auto al sole dei suoi genitori a Lucca. L'incidente è avvenuto nel pomeriggio del 9 maggio, quando i carabinieri sono stati chiamati a intervenire per liberare la piccola chiusa nella vettura. Secondo quanto ricostruito, i genitori, due coniugi originari dello Sri Lanka, residenti a Lucca, hanno lasciato la loro figlia in auto parcheggiata davanti ad un negozio dove erano andati a fare alcuni acquisti. Nonostante la temperatura all'interno dell'auto sia salita rapidamente, i genitori non si sono accorti di aver lasciato la neonata in auto. Fortunatamente un passante è stato in grado di salvare la vita della bambina, intervenendo prontamente. Fortunatamente un passante è stato in grado di salvare la vita della bambina, intervenendo prontamente.